Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, gli appuntamenti di oggi alle ore 13 su ZAMTUBE in diretta dopo QP per commentare le qualifiche della MotoCP e introdurre la gara sprint delle ore 15 e invece stasera alle ore 19 su moto.it diretta con Matteo Baiocco di Aprilia per commentare la gara sprint. Allora diretta ore 13 su ZAMTUBE e diretta ore 19 su moto.it. Vi aspetto dalle man! Ciao a tutti!